Lo schermo di segnalazione presenta un riepilogo delle informazioni di guida e navigazione sul quadro della strumentazione sullo schermo multimediale Open Arlink direttamente sul parabrezza. All'accensione del motore, informazioni quali velocità del traffico o guida GPS vengono proiettate sul parabrezza nel proprio campo visivo, offrendo un maggior comfort di guida e una sicurezza superiore. La luminosità del display varia automaticamente a seconda dell'illuminazione esterna, ma può essere regolata manualmente. Per accedere alle impostazioni dello schermo di segnalazione, andare alla sezione Veicolo del sistema multimediale di Open Arlink, selezionare il menu Veicolo, Abitacolo, quindi Schermo di segnalazione. È quindi possibile regolare la luminosità, la posizione di visualizzazione e le informazioni che si desidera visualizzare. Infine, è possibile attivare o disattivare la funzione. Tenere presente che queste impostazioni devono essere modificate a Veicolo fermo e Motore acceso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.